Io mi ero detto, dico, Carmine, qualora, ma dovessi avere il covid, devi assaggiare tutte le cose che ti fanno schifo. Parlo in terza persona, io, come la buonanima di hotel, ma così faccio. Ho detto, vabbè, ho fatto questa cosa, ho assaggiato, ne ho approfittato, ho assaggiato tutte le cose che mi fanno schifo. Ho iniziato dal cioccolato fondente al 95% di cacao, che vi piace? No. Quello è fumo, si fuma. Che sì, se non hai l'hashish va bene, che sì. Che è catrame, che cazzo dici? Ho provato il porridge che va tanto di moda adesso. Sì, se avete delle mattonelle che cadono potete... Ha una tenuta di 30 giorni, è perfetto. E poi ho assaggiato la pizza di Spondini, che è... Vogliamo chiamarlo Piumone, Pomodoro e Mozzarella? Mi va bene. Grazie. Grazie.